E' tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 sulla strada statale 195 nei pressi di San Giovanni su Ergiu. Una donna e un uomo a bordo di una Ferrari hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale con un camper. A causa dello schianto la Ferrari sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi e prendendo fuoco. Per i due occupanti non c'è stato niente da fare. Nell'incidente è stata coinvolta anche una Lamborghini con a bordo due turisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell'ANAS.